Ciao a tutti ragazzi, io sono Fabio Skeleton e ho qua con me tre bustine in strad promessa cremisi, vado, inizio ad aprire la prima, sperando di fare una bella sbustata domenicale allora, se magari venissero fuori, sarebbe anche meglio allora, la prima è dono dei canini, la metto qua la seconda è volontà adamantina, sono in italiano la terza è sputafiamme di Kessig, la quarta è corazza di rovi poi c'è scab avide forme, rituale raccapricciante, salvataggio soprannaturale progeni della pira, invito al matrimonio, antenata premulosa e iniziano le non comuni, riprendere gul supremo di traben caduta dell'eroe e quella rara è partecipazione al matrimonio allora, leggo un attimo poi ho trovato dentro una terra una pianura una carta giorno-notte è una pd, è una carta con la quale si può creare una creatura procediamo alla seconda allora, scorpione tossico scab avide forme rituale raccapricciante salvataggio soprannaturale celebrante dei pietali di sangue discepolo albacorno scab serbatoio invito al matrimonio popolano spaventato ecco qua iniziano le non comuni sepoltura pacifica scorta di hollenbrock hollenbrock reietto lupesco e attenzione come rara passo del tramonto che dice entra in gioco tappato se non controlli altre due o più terra aggiungi rosso e bianco molto bella scambio poi carta foil che male non fa un'altra pianura e due pedine piccoline poi la terza e l'ultima bustina disenziente condannato recluta rurale celebranti faikenrat schianta scudi di eswald prelevare l'essenza invitata ingorda lupo d'orso spora abrasione lupo saetta fanteria di droxvall e iniziano le le non comuni spirito effimero assaltatore magmatico ragno orrorogeno e questa qua che sembra particolare runo stromkirk ok lo trasformi diventa un'altra cinque vediamo un po' una pedina umana una bella isola e e si è concluso così ciao ragazzi vi saluto e ci vediamo alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti